bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xuder e oggi ragazzi abbiamo una roba interessantissima interessante perché noi di solito vi facciamo i video pomeridiani dei chest opening abbiamo aperto il magico il gigante ma oggi che siamo a fine stagione anzi è già finito siamo già nella nuova stagione nella stagione vi apriamo due bolozzi interessanti e due di lega 3 due bauli costruibili di lega 3 si è arrivato in lega 3 ecco mi sembrava che fosse arrivato in lega 3 beh ragazzi beh andiamo subito ad aprire il primo che è il mio quindi se lo sceglie lui vai ostia è vero me lo devo scegliere io 5 skip con 3833 di gold non male non male cosa scegliamo tra non li usa tutti e due non li uso nessuno dei due ma prendo la gang prendo la gang ottima scelta tra estrattore e torre infernale e qua io vado di torre infernale così e l'estrattore non mi l'ho mai usato oh oh grande cosa moschettieri 80 no pensavo le capagne dei goblin pensavo 89 moschettieri ragazzi questo vuol dire 500 su 800 tra l'altro nel main deck il moschettiere a livello 9 si fa sentire che è molto basso ce l'abbiamo ce l'abbiamo la leggendaria ce l'abbiamo la leggendaria ragazzi potrebbe essere qualsiasi cosa però però piano ci sono 20 barili goblin o 20 principe nero io vado sul barile vado sul barile super like per la leggendaria ragazzi super like per la leggendaria wow meno male meno male che non si vede il shashaya è d'orevo ed% sul video di ieri che sarebbe oggi allora cosa scegliamo pronto al barile e vado aspetta 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 che scelta che scelta uno o l'altro beh il mago di ghiaccio al 4 è il mago di ghiaccio mago di ghiaccio mago di ghiaccio non potevo non prenderlo non potevo 6 su 10 6 su 10 mamma mia mamma mia ragazzi direi che ci facciamo guarda lo mettiamo dentro lo mettiamo dentro facciamo una palina col mago di ghiaccio dai che è tanto che non lo uso qua lo metto qua al posto dei goblin si vediamo vediamo si non lo so non lo so non lo so potrei potrei la provo così al posto dei goblin vediamo vediamo questo mago di ghiaccio potevo forse togliere il moschettiere non lo so non lo so siamo contro Mike Myers un grande omaggio a Goldmember non so se avete visto gli American Pie non American Pie come si chiama il miglior Thrasher il miglior Thrasher il più Thrasher ah la traduzione lo Smash lo Smash lo Smash va bene va bene va bene qua partiamo molto tranquilli andiamo dall'altra parte puliti io vado di o Grider e il moschettiere e lo vuoi la torre non c'è problema in realtà non c'è questo grande problema guarda il moschettiere dovevo tirare più veloce la zap ho il dito olioso ho il dito olioso sarei stato molto più avvantaggiato se avessi colpito con la zap e qua serve ragazzi eccolo qua eccolo qua andiamo a fare così andiamo a fare così vediamo riesce a prendere si riesce a prendere il mago di ghiaccio può solo rallentare ma non più di tanto aspettiamo un attimo mettiamo il U Caballeros sul suo boia vediamo se si salva il mago si è salvato ripartiamo a sinistra con lo Grider troppo presto il suo tronco troppo presto la torre no si ma c'è il coso che la ghiaccia c'è il coso che la ghiaccia bene così molto più facile lo Grider uno 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 solo uno solo va bene va bene mettiamo il mago sulla fuorilegge qua scarichiamo invece togliamo tutto va benissimo va benissimo si salva ancora il mago incredibile lo voglio proteggere di nuovo davanti un golem del ghiaccio vediamo se ha senso lasciamo solo così lui gioca oh mio dio il mago può andare a sparare sulla torre fa comunque 80 danni mi sembra ogni colpo vediamo col moschettiere mamma mia ce l'ha al 10 il goblin cerbotaniere ce l'ha al 10 e beh c'è il moschettiere adesso lui mette la torre bombardiera che colpisce lo Grider non la mette non la mette la torre è crashato è crashato è crashato oh mio dio oh mio dio penso sia crashato gli mettiamo il magone andiamo a chiuderla un po' da infami ma andiamo no no ha giocato il boia ha giocato il boia c'è qualcosa di strano c'è qualcosa di strano aspetta aspetta guardalo lì guardalo lì il mago di ghiaccio beh il mago di ghiaccio al 4 mamma mia il mago di ghiaccio al 4 ragazzi fa male e il mago di ghiaccio c'ha quell'abilità unica lì che è troppo una figata ma non vuole fare questo eh questo fa un'idea mica mica sbagliata di protezione guardalo lì potrebbe farmela potrebbe farmela no mi difendo bene mi difendo bene mago di ghiaccio ancora essenziale per fermare di là ah è vero potrei buttaglielo ghiaccio in attacco grazie scusa andiamo a tirare andiamo a tirare con gli starnuti con gli starnuti beh ragazzi adesso invece ci spostiamo nel profilo della PAMI swish eccoci qua ragazzi infatti nel profilo della PAMI anche lei lega 3 il baule costruibile vai 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 vediamo se facciamo la combo la doppia leggendare non ti apre perché non clicchi sul baule è lì che clicca sul logo della Lega 3 cosa devi fare calma 3886 di gold sta ridendo non ce la fa non ce la fa tu la cosa la scarica la scarica la zappa 15 zappa 15 zappa al posto di 15 gang di goblin non è male non è male perché la uso assolutamente 3 skip beh non ne usi neanche una delle due neanche uno però i goblin goblin lanceri ancora 3 skip ragazzi ancora 3 skip vediamo cosa ti esce vediamo cosa ti esce mamma mia mamma mia mamma che brutto è questo si tra i due beh col tuo deck potrei io prenderei tre moschettieri tanto non li potenziero mai lo so 101 per tre moschettieri 2 skip ancora ed è una double ed è una double leggendaria ragazzi incredibile pure questa è mizzega beh scegli tu chi vuoi cannone o specchio nessuno dei due va beh prendiamolo non lo so io il cannone o quasi non ero teme attenzione ragazzi la seconda leggenda merita un altro like per chi non l'ha messo merita un altro like solo due like per le leggendarie prendila no no la prendiamo andiamo a prendere la princess porco la super combo la super combo va beh va beh va beh ragazzi direi che abbiamo stufati abbastanza siamo già a dieci minuti faccio uno screen e non puoi pubblicarlo oggi su instagram però no lo pubblichiamo domani mia se me lo pubblichi oggi su instagram mi bruci tutta la sorpresa mi bruci beh ragazzi direi che siamo veramente arrivati alla fine ma la migliore o no sta princess non ho capito no non ce l'ho nel deck ah sei qua devo migliorare questo cosa che devi dire il caballeros aspettiamo di farne un altro video di migliorare aspettiamo 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 beh ragazzi beh ragazzi io allora direi dato mentre doniamo carte soldi direi per oggi abbiamo finito mi raccomando se vi piace il video comunque non vi diciamo iscrivetevi al canale su forza 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 che dove li trovate due deficienti non li trovate non li trovate ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti